I vini dell'Eros, perla nera e perla bianca sono i prodotti più importanti dell'azienda, nel senso che sono quelli dove mi riconosco di più e sono due vini affinati in barrique. Il perla bianca è un trebbiano d'abruzzo d'oc e il vino dedicato all'amore assoluto e corrisposto. Vino importante, vino di grande struttura proprio perché potrebbe essere l'amore della tua vita, quell'amore che quando incontri riconosci di aver già vissuto dentro di te. Un vino super vellutato, morbido, che ti fa le coccole sul palato, proprio perché insieme alla bellezza dell'amore ti deve evocare quel senso di serenità, quel senso di tranquillità. Perla nera è un po' l'opposto, è il vino dedicato all'amore romantico, un po' dannato, che hai paura di perdere da un momento all'altro. Un vino di grande personalità perché deve evocare fascino, ma un vino che non si concede subito, quindi che ha bisogno di tempo. Un vino che deve evocare il tormento anche, insieme alla passione. Un vino che non ha tannini troppo dolci, che non è troppo morbido, ma con delle leggerissime spigolosità che sono in un'armonia di ordine superiore tra di loro, proprio per evocare passione e tormento. Sicuramente è ben descritto nella retroetichetta che recita così. Non è un vino, ma una donna rosso fuoco che concede i suoi favori solo ai grandi amanti. Non è un piacere effimero, ma una passione intensa che rende schiavi per tutta la vita. Non è il solito vino, ma un montepulciano doc dal colore rosso rubino, con sensazioni di frutta matura, cioccolato e pepe nero. Bevendo sognerete di spogliare il corpo ampio e generoso di una perla nera con l'unico rimpianto di non poterla avere per sempre.